Ore d'angoscia in Veneto per le sorti di quattro amici impegnati in Pakistan in una spedizione alpinistica. Facevano parte di un gruppo di sette persone, tutti esperti. All'alba di lunedì il gruppo è stato travolto da una valanga. Erano ad un'altezza di 5.300 metri. Dovevano raggiungere quota 5,8. L'esercito pakistano ha organizzato una missione di soccorso che però potrà partire solo martedì mattina. Le condizioni meteo e la lontananza dalla base del luogo dell'incidente non hanno permesso un intervento tempestivo, anche se pare che la zona sia stata sorvolata dall'alto e che il gruppo sia già stato avvistato. Fanno parte della spedizione tre vicentini e un trevigiano. Sono Tarcisio Bellò, Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo. Gli alpinisti sono vivi. Uno di loro pare abbia riportato fratture multiple. Sembra che la guida a Pakistan sia invece scomparsa.